Amici di Pupia, siamo con Nicola Russo, coordinatore dell'Italia dei Valori. Signor Russo, lei era uno dei dimissionari di coloro che hanno firmato per far cadere il sindaco. La scelta, il perché della sua scelta? Sì, io fui eletto nella lista all'arcomaleno come componente dei DS, poi confluito nel PD. Quindi appartenevo alla stessa componente politica del sindaco. I problemi nell'amministrazione partono da lontano. Fin dai primi giorni noi ci siamo resi conto che non era possibile attuare quegli accordi programmatici che avevamo stilato in sede preventiva all'elezione. E quindi c'era un confronto abbastanza aspro all'interno perché c'erano diverse anime e quindi non si riusciva a trovare un'amalgama. Da assessore, io per esempio ho protocollato... Scusa, lei è assessore in quale delle quattro? Lavori pubblici e urbanistica. In quale delle quattro? La prima, la prima. Ho prodotto e protocollato diversi documenti in cui chiedevo trasparenza e legalità. Cioè in effetti qui succedeva che si facevano dei regolamenti comunali e poi non si applicavano. Regolamenti approvati in consiglio comunale e poi non si applicavano. Come per esempio l'albo delle ditte di fiducia dove invece di fare la rotazione si faceva lavorare una sola ditta con un sacco di lavori dati in affidamento di letto. E su questo io non ero d'accordo. Non ero d'accordo che non si rispettava il protocollo sulle concessioni edilizie. E non ero d'accordo su tante cose. Quindi ho protocollato una marea di atti e avevo chiesto anche un ricambio nella dirigenza perché non la ritenevo all'altezza. Un assessore così produttivo perché è andato via allora? Sì, non sono andato via, sono stato cacciato. Forse perché facevo troppo, volevo troppo. E quindi ho avuto la revoca praticamente dell'assessorato. E logicamente prima che arrivasse questa revoca questi miei atti, prodotti e protocollati hanno costituito praticamente un nucleo di aggregazione e sulla quale abbiamo trovato che non c'era, diciamo, non eravamo questi rapporti con Di Lauro mentre con Fabozzi, se eravamo dello stesso partito, c'era più un feeling. E questo è stato importante perché io, Raffaele Di Lauro, lo ringrazio per questo pubblicamente, me lo sono ritrovato a condividere quegli atti che io ho presentato perché anche lui condivideva questa mia scelta di legalità e trasparenza da realizzare a tutti i costi nell'amministrazione. Lei è poi confluito nell'Italia dei Valori, ma quando era ancora nel Partito Democratico, so che comunque il Sindaco ha, in un certo qual modo, tenuto fuori il PD di alcune decisioni, l'ha detto prima il Di Lauro. Sì, noi avevamo due assessori in giunta e che eravamo, diciamo, io come consigliere comunale e poi c'era un altro consigliere comunale, due consiglieri comunali. Praticamente ha zerato l'aggiunta e ha fatto la revoco a tutti e due e ha nominato il segretario senza consultarsi con noi, senza dialogare e senza condividere il percorso. Quindi questa è la ragione per cui l'EPO ha confluito nell'Italia dei Valori? No, sono confluito nell'Italia dei Valori perché a più riprese ho rappresentato questa situazione anomala di Trento la Docenta dove, diciamo, mancava completamente il confronto all'interno del partito e di rifesso nei rapporti con l'amministrazione e in sede provinciale e la sede provinciale ha fatto come Ponzio Pilato, ha fatto sempre così, si è lavato le mani e io praticamente sono uscito dal partito per questi motivi, perché non mi sentivo più a casa mia né qui a Trentola e né nella sede provinciale. L'Italia dei Valori, la prossima elezione comunale, come si comporterà? L'Italia dei Valori si comporterà come un partito che tiene al primo posto i valori. Ecco, allora per me... Si presenterà da solo, quindi confluirà in qualche lista civica? Per me, indipendentemente dalle bandiere e da tutti gli altri fattori, l'Italia dei Valori non avrà nessun tipo di problema, basta che siano persone per bene. Quindi anche una lista civica? Basta che siano persone per bene, siamo aperti a tutti i confronti.